La Sop Turca I telespettatori, quindi, potranno ricominciare a sognare con la tormentata. E alquanto romantica, storia d'amore tra Zuley Altun e Yilmazakaya, i quali a un certo punto sembreranno trovare la tranquillità con i nuovi rispettivi compagni. Ossia Demir Yaman e la dottoressa Muegan. Ad appassionare il pubblico sono anche le storie degli altri personaggi di Terra Amara. Anche se per alcuni, purtroppo, ci sarà una terribile fine. Alla lunga lista di delitti si aggiungerà anche quello che vede come protagonista Cengavir. Il fidato amico di Demir, infatti, perderà la vita per mano di una new entry del cast, ossia Atip. Proseguono le anticipazioni di Terra Amara, in attesa dei nuovi episodi. Oltre a momenti molto romantici. Tra cui si può annoverare il matrimonio di Yilmaz e Muegan, o quello di Gülten e Cetin. Ci saranno momenti ad alta tensione. Cengavir, per esempio, perdere barbaramente la vita. Seguendo le trame della SOP, l'amicizia tra Yaman e Cengavir inizierà a vacillare quando Demir penserà che il suo braccio destro sia coinvolto nel pettegolezzo che vede protagonisti Zuley e Yilmaz. Le finanze di Cengavir inizieranno a vacillare, visto che Demir lo estrometterà dalla società creata poco prima. Come conseguenza a tutto ciò, anche il matrimonio tra Cengavir e Yilmaz andrà in crisi. Infatti l'amico di Yaman scoprirà che la moglie ha chiesto dei soldi e minacciato Zuleyla. E penserà che la sua consorte possa essere alla base di tutti i suoi problemi. Nell'ambito di questa situazione traballante si inserirà l'arrivo di Atip Telidere. Un losco personaggio ancora sconosciuto al pubblico italiano. Atip ucciderà Cengavir sparando un colpo di arma da fuoco a bruciapelo. Il decesso dell'amico. Sebbene i rapporti tra i due fossero cambiati nell'ultimo periodo, turberanno un poco Demir, ma anche il capo Mastro Ghaffur. Chiampiano anche Nial verrà tenuta fuori dalle dinamiche della serie, fino a non comparire più. Ma per scoprire cosa porterà al decesso di Cengavir bisogna attendere le prossime anticipazioni turche di Terra Amara. Grazie a tutti.